Alcune strade su cui camminiamo ogni giorno e certi luoghi che pensiamo di conoscere a memoria nascondono in realtà enigmi da indagare, storie e personaggi a cui non credereste mai, ma voi al boss dovrete credere. In questa avventura avrò al mio fianco Giano del Bufalo, esperto di leggende e collezionista di oggetti misteriosi da ogni epoca. Insieme vi dimostreremo che l'ignoto può nascondersi dentro ogni stanza, dietro ogni porta o sotto ogni pietra. Ma questo è solo uno dei tanti insegnamenti del codice del boss. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.